15 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per aiutare le imprese, le imprese dei giovani e le imprese femminili. Sì, ormai il bando è assolutamente chiuso, l'abbiamo chiuso a metà novembre, ma la sfida oggi del presentare i documenti e i dati soprattutto era quella di vincere questa presentazione in un momento di difficoltà, in un momento di recessione, che sappiamo essere in qualche modo finito ma che ovviamente ancora non ha fatto sentire fino in fondo i suoi effetti di ripresa e per dare una risposta anche ai tanti gufi che in questi momenti hanno guardato verso questi bandi come un qualche cosa che non avrebbe avuto un risultato. Tanti sono stati gli incontri sul territorio, veramente centinaia, direi quasi migliaia di persone abbiamo incontrato per presentare questi bandi e abbiamo avuto, devo dire, da subito sul territorio l'impressione che avessimo colto il bersaglio e che avessimo fatto centro con una richiesta che evidentemente da molto tempo era attesa. Sebbene vi siano da sempre i fondi di rotazione dedicati all'imprenditoria femminile e giovanile, ma avere fino a 60.000 euro a fondo perduto non è cosa di tutti i giorni. E quindi la risposta c'è stata, sono quasi 1.200 le domande, quasi equamente divise tra femminile e giovanile con un'attenzione, devo dire, rincuorante, perché vuol dire che il Veneto ancora si ha voglia di fare impresa, che in Veneto non si è sopita a quel nostro DNA di essere così locomotiva del nord-est, ormai siamo frecciarossa, frecciargento del nord-est evidentemente, non più locomotiva, e quindi un dato importante perché le imprese potevano essere quasi nuove, imprese nate dal gennaio del 2008 fino alla fine del 2009, e hanno risposto equamente, non vi è stata, devo dire, una rincorsa da parte di chi aveva già comunque aperto la propria impresa rispetto a chi invece si è messo in discussione. Ma quello che è importante è che vi sono moltissime domande anche superiori alla quota di investimento dei 120.000 euro, quindi con i 60.000 a fondo perduto. Questo a riprova del fatto che non sono i bandi, come qualcuno dice, che in qualche modo stimolano la domanda di impresa o l'idea di far nascere un'impresa, ma sono a supporto di chi impresa comunque aveva intenzione di farla, magari sono un incoraggiamento di più, indubbiamente, però io credo che ancora una volta la risposta sia stata la risposta dei Veneti, di quella di voler fare impresa, di crederci anche in settori nuovi, perché per esempio soprattutto nell'imprenditoria giovanile il settore della comunicazione e dell'informazione ha tirato molto, ha bevuto molto, come si suol dire nel caso delle domande, e quindi adesso noi ci apprestiamo a chiudere tutte le graduatorie e entro il mese di gennaio appunto pubblicheremo la graduatoria e daremo poi i finanziamenti alle imprese che lo stanno attendendo. I 15 milioni, grosso modo, facendo una media, noi riteniamo di poter accontentare circa il 50% delle domande, però nella prossimo bilancio di previsione sono previsti ulteriore 7 milioni per in qualche modo scorrere anche le graduatorie e dare più respiro, quindi arrivare a dare una risposta intorno al 75%.